ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video quest'oggi vi racconterò di quello che è stato annunciato per assetto corsa evo presentato al sim racing expo 2024 e ci sono un sacco di novità e funzionalità che il team di culo simulazione ha rivelato che promettono di cambiare davvero le regole del gioco quindi ragazzi se siete appassionati sim racing non potete mancare questo video una delle novità più importanti e senza dubbio il nuovo motore grafico proprietario durante la live davide brivio game director ha spiegato che hanno scelto di abbandonare e mo lo faccio dire dall'intelligenza artificiale se no alcuni amici miei che lo sanno chi mi prendono per il culo hanno scelto di abbandonare unreal engine per sviluppare una piattaforma su misura questo garantirà maggiore flessibilità e performance ottimizzate per la simulazione di guida i risultati sono impressionanti con effetti di luce dinamiche e riflessi in tempo reale che rendono l'esperienza di gioco ancora più immersiva infatti un dettaglio interessante è come la luce interagisce con l'ambiente circostante cambiando in base all'orario del gioco e anche alle condizioni atmosferiche inoltre è stato confermato che il motore supporterà configurazione triplo screen e vr fin dal lancio in il liaccio ragazzi questa è una bomba di notizia parliamo ora del sistema meteodinamico hanno mostrato come la pioggia si accumula e defluisce lungo la pista creando pozzanghere e variando l'aderenza in tempo reale è molto simile a quello che abbiamo visto su iRacing o su atomobilista 2 ma qui ogni dettaglio è calcolato in base alla topografia del circuito e non è finita qui ragazzi perché in assetto corsa evo avremo anche condizioni meteo variabili su sezioni diverse della stessa pista pensate nurbrüring dove una parte del circuito potrebbe essere asciutta mentre sulla north child ad esempio ci potrebbe essere un temporale questo ovviamente rende ogni giro imprevedibile e aggiunge un livello di strategia senza precedenti pensate che emozione per ogni giro mamma mia lì piove qui asciutto cosa faccio fantastico il nuovo modello di pneumatici include degradazione blistering e la possibilità di flat spots e forature durante la live infatti brivio ha confermato che sarà fondamentale prestare attenzione alla gestione dei pneumatici soprattutto nelle gare lunghe e in condizioni di meteo variabili finalmente hanno focalizzato il punto sul multiplayer massarotto spiega che il team sta sviluppando un sistema avanzato e ben organizzato per le gare online che include la gestione dei server e la prevenzione dei cheat il nuovo ecosistema permetterà ai giocatori di pianificare eventi creare calendari di gare e partecipare facilmente a competizioni il tutto all'interno del gioco stesso senza fare affidamento su piattaforme esterne il sistema multiplayer di assetto corsa evo non è un semplice trasferimento delle vecchie funzionalità ma un'evoluzione che mira a migliorare l'esperienza complessiva e la sicurezza delle gare online arriviamo quindi a un punto cruciale in cui si cerca di capire bene qual è la direzione che uno vuole avere con il modding ovviamente il modding sarà supportato in assetto corsa competizione dico ovviamente perché è stato dichiarato dopo il completamento del programma early access kunos vuole garantire un sistema legittimo e sostenibile per i modder introducendo strumenti avanzati e collaborazioni con i produttori di automobili per rispettare i diritti di proprietà intellettuale l'obiettivo è promuovere la creazione di contenuti autentici e di alta qualità evitando il copia e incolla di contenuti da altri giochi il nuovo editor sarà potente e consentirà ai modder di collaborare direttamente con le case automobilistiche per creare auto ufficiali offrendo loro visibilità e opportunità di lavoro professionale qui è tutto un'interpretazione e bisognerà aspettare di capire bene come funzionerà questo modding una delle funzionalità di assetto corsa evo è anche la possibilità di personalizzare l'avatar del pilota con abbigliamenti accessori che possono essere adattati in base al tipo di guida che sia su pista o su strada questo aumenta l'immersione del giocatore permettendo una maggiore espressione personale all'interno del gioco e massalutto anche confermato che non ci saranno micro transizioni per questi elementi di personalizzazione rassicurando appunto noi giocatori che potremo godere di tutte le opzioni disponibili senza costi aggiuntivi e questa è una bella notizia al lancio della irliaces massalutto conferma che saranno inclusi inizialmente almeno 20 automobili e 5 circuiti con l'obiettivo ovviamente di espandere gradualmente il contenuto durante il periodo di sviluppo seguendo un modello di aggiornamento progressivo simile a quelle dei precedenti titoli di questa serie questo approccio garantisce che i giocatori possono beneficiare di miglioramenti continui e di nuovi contenuti man mano che il gioco evolve quindi ragazzi assetto corsa evo si presenta come un titolo che non solo vuole espandere l'esperienza di gara ma vuole anche offrire un mondo aperto e dinamico dove ogni aspetto della guida dal metodo alla gestione delle auto è progettato per offrire un'esperienza realistica immersiva quindi ragazzi che cosa ne pensate vi entusiasma tutto questo nuovo capitolo della serie assetto corsa fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate che cosa vi aspettate e ragazzi pollice in su iscrivetevi al canale come al solito noi ci vediamo prestissimo da fabbrica è tutto un abbraccio ciao